Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fiere Congressi, è rimasto escluso con la società che presiede dal nuovo Consiglio di Amministrazione di Garda Trentino S.P.A., che ha recentemente rinnovato i suoi vertici. Nella composizione del nuovo C.D.A., passato da 11 a 9 membri, con la presidenza assegnata per la terza volta a Marco Benedetti, spicca l'assenza dell'ente fieristico, una mancanza che evidentemente non è passata inosservata. Non ho voluto entromettermi nelle scelte, ha commentato Pellegrini. Dico solo che Riva del Garda e Fiere Congressi porta 200.000 presenze all'anno, pari al 6% del totale. Ma se parliamo di capacità di spesa delle persone che portano le fiere, la cifra è doppia, quasi 200 euro a testa, rispetto ai turisti normali e di fatto rappresentiamo il 15% di tutto l'indotto turistico. Eppure nessuno ha pensato a noi. Il Comune, prosegue il presidente di RFC, che conta metà di tutte le presenze turistiche del Garda Trentino, non ha un solo rappresentante nel C.D.A. della PT. Nessuno ha pensato alle fiere? Bene, significa che il Garda Trentino non ha rapporti con la realtà del territorio. La conclusione di Roberto Pellegrini è sarcastica. In compenso, Garda Trentino, che detiene il 6% delle quote di RFC, è rappresentata nel nostro Consiglio di amministrazione dalla direttrice Roberta Maraschin.